Finalmente sono tornato qui a Teramo, ci ho messo un po' a prendere questa decisione ma alla fine mi sono convinto, ho fatto una scelta di cuore e adesso non vedo l'ora di giocare. Inizio ero un po' combattuto per la categoria, sì questo lo ammetto, però poi parlando con il direttore e con il presidente ho visto in loro tanta motivazione, tanta determinazione ma soprattutto tanta passione, mi hanno convinto, mi sono convinto e adesso spero di fare bene e di portare il Teramo dove merita. Il cambiato di promozione è difficile perché tutte le squadre, poi essendo il Teramo, ti affrontano al massimo, si vogliono mettere in mostra e comunque vincere non è mai semplice, non è categoria, però se le affrontiamo con l'atteggiamento giusto, con la cattivera giusta, le partite che perdi, che pareggi, saranno pochissime. Nel tuo sì ha avuto un peso non solo il colloquio con il direttore sportivo D'Ercole ma pare anche un colloquio con il capitano Ivan Speranza. Certo, ci conosciamo da tanto tempo, in queste settimane ci siamo sentiti spesso, mi ha fatto molto piacere, sicuramente lui ha avuto un peso su di me.